Buonasera, ben trovati con il notiziario di preapina.it, che apriamo col caldo africano. L'allarme si cita, temperature oggi quasi da record in Lombardia e nei prossimi due giorni saliranno ancora. Questo prevedono gli esperti che indicano in questa settimana il periodo più torrido dell'estate 2022. A Milano potrebbe essere superato il primato del 2003 con 39,8 gradi. A Varese la massima sarà oltre i 36 gradi e la minima di notte a 20 gradi. E questa situazione sta aggravando la crisi idrica. Oggi il Presidente della Regione Attilio Fontana ha lanciato l'allarme. Purtroppo, ha detto Fontana, siamo arrivati a un tale livello di siccità che sta finendo l'acqua per l'agricoltura. I laghi Maggiore, Garda e di Como hanno riserve d'acqua che consentiranno l'utilizzo per le attività agricole ancora per qualche giorno. E adesso la politica. La crisi di governo approda domani in Parlamento col voto di fiducia al Premier Draghi. Sentiamo l'analisi del collega Silvestro Pascarella su cosa potrebbe succedere. Mario Draghi domani va al Senato per la fiducia e giovedì sarà alle Camere. Proseguono intanto le trattative per cercare di salvare questo governo. Anche all'interno dei 5 Stelle c'è chi si sfila dalla posizione dura di sfiducia e tra questi ci sarebbe anche il parlamentare della provincia di Varese, Niccolò Invidia. Resta da capire se comunque il governo di unità nazionale, così come era partito, riuscirà ad andare avanti. Posto che i numeri potrebbero cambiare, bisogna capire se il Premier riuscirà ad accettare questa situazione che è cambiata, che si è evoluta. Se raccoglierà gli appelli che sono arrivati dal territorio, se il suo cuore da banchiere, così come l'ha raccontato anche in una barzelletta, coglierà quello che è un po' l'ondata popolare, che significa rimane al governo, vai avanti con questa legislatura e soprattutto per i partiti sarebbe un'opportunità, perché in questo momento sono impreparati per affrontare le elezioni, ma soprattutto per il Paese sarebbe un successo, per il semplice motivo che tutti i provvedimenti che sono stati presi, che sono in essere, potrebbero andare a conclusione. Ma riuscire a dare una risposta certa e sicura sul quesito iniziale, Draghi continuerà o meno, al momento è impossibile. E parliamo adesso di motori. In provincia di Varese sono 758.207 i veicoli immatricolati, di cui 595.000 auto. Il rapporto è di una macchina per abitante maggiorelle. Sentiamo il servizio di Marco Croci. La provincia di Varese ha 880.000 abitanti e 758.297 veicoli immatricolati, di cui 595.000 auto. Se si considera la fascia di età patentabile, il rapporto è quasi di 1 a 2, un paio di motori, tra auto, moto, furgoni e camion, pro capite. E comunque una macchina a testa. I dati sono aggiornati alla fine dello scorso anno, li ha elaborati la Camera di Commercio di Varese sulla base dei registri dell'ACI. La ripartizione dei veicoli su scala provinciale è la seguente. 595.105 auto, 96.610 moto, 54.107 mezzi addetti al trasporto delle merci, camion e furgoni, 11.783 veicoli speciali, come spazzaneve e ambulanze, e 612 autobus. La parte del leone nella giungla urbana la fanno ovviamente le macchine, che però per la prima volta dal 2016 fanno registrare una flessione, lo 0,3% in meno rispetto all'anno precedente. E comincia a sentirsi anche l'effetto green. Il 4,1% delle macchine è ibrido, meno dell'1% elettriche, il 3,3% alimentato a benzina e gas liquido, il 29,7% a gasolio e il 62% a benzina. Spostiamoci ora a Varese per vedere le condizioni dei sottopassi delle stazioni. Ecco il servizio. Sottopassi imbrattati e utilizzati come bagni pubblici. Accade a Varese, dove l'ultimo tunnel rimasto in città, nella zona delle stazioni ferroviarie, finisce al centro delle critiche di residenti ed esercenti della zona. Nessun dubbio sull'utilità del passaggio, che garantisce l'incolumità dei pedoni nell'attraversare una delle zone più critiche del capoluogo. La protesta riguarda le condizioni in cui versa. I muri sono completamente imbrattati con graffiti e scritte oscene che sono andati a coprire disegni artistici realizzati ormai alcuni anni fa. Ma il problema è soprattutto per il cattivo odore che si avverte appena si arriva in fondo alla scala. Gli angoli del sottopassaggio vengono utilizzati come vespasiano e complice al caldo di questi giorni l'aria diventa irrespirabile. La speranza, spiegano dei amorosini, è che il comune provveda al più presto alla pulizia, in attesa che tutta l'area venga riqualificata nell'ambito del piano stazioni. Parliamo ora dei luoghi del cuore concorso del FAI sul patrimonio ambientale e architettonico d'Italia che andrà a premiare con contributi i luoghi più votati. Ebbene, sono oltre 300.000 in poco più di un mese i voti raccolti e nella classifica provisoria a livello nazionale primeggia il Museo dei Misteri a Campobasso. E la provincia di Varese ha qualche candidatura che sta rispondendo particolare successo? Sì, la più votata è la Brughiera del Gaggio a Lonate-Pozzolo, un museo della biodiversità a cielo aperto, lo descrive il FAI, che aggiunge l'Espandersi di Malpensa, minaccia la distruzione di questa area verde dal grande valore scientifico, storico e paesaggistico. Questa è l'ultima notizia e vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 13. Buona serata.